Ciao a tutti ragazzi, sono Simone Signor Giallorosso ed oggi non è parlare di una notizia che sta leggendo nell'ambiente romanista sto parlando del ritorno di Eric Lamela alla corte dei giallorossi si tratterebbe di un ritorno a me graditissimo se così si può dire, perché ho sempre stimato sia come calciatore che come persona Eric Lamela andò al Tottenham nell'estate del 2013 quando arrivò Garzia per una cifra intorno ai 35-40 milioni che comunque è una cifra molto molto alta e potrebbe tornare a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni una cifra nettamente più bassa rispetto a quella con cui il Tottenham l'ho acquistato ben ormai 4 anni e mezzo fa diciamo che sarebbe un giocatore perfetto per il gioco di Francesco perché di Francesco ha chiesto un'ala destra di Pere Mancino e sul mercato a 0, perché noi lo prendiamo a 0 ma Moncino può spendere in questo momento tanto quindi un prezzo e un diritto di riscatto così forte che esodisce tutte le richieste del mister e anche dei compagni perché comunque un giocatore molto forte non è una testa calda che ne so come Osvaldo sarebbe secondo me uno di colparci del mercato invernale per quanto riguarda la Serie A sono sempre stato legato alla Mela e anche lui è sempre stato legato alla Roma perché in alcune sue dichiarazioni ha sempre detto che non esclude un ritorno alla corte del club di pallotta e ha anche detto che è molto legato alla città di Roma e quindi dopo che è finito ai margini del Tottenham potrebbe tornare per giocarsi le carte per il mondiale di Russia con l'Argentina sarebbe come lo ribadisco un colpo perfetto per me e darei un bel voto a Moncino un'otto e mezzo soprattutto perché comunque nel caso non lo vogliamo più lo possiamo rimandare al Tottenham senza spenderci niente non è neanche prestito oneroso è prestito gratuito con diritto di riscatto sarebbe veramente un mago se riuscissimo a prenderlo così se vi è piaciuto lasciate un piace, commentate e iscrivetevi al canale ciao a tutti